Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questa nuova recensione per la Ludonarra con 2021. Oggi parliamo di Forgotten Fields, per cui oltre a Fellow Traveler devo ringraziare anche Frostwood Interactive che mi ha mandato la chiave. Devo dire che intanto non fatevi ingannare dalla grafica e da come appare il gioco esteticamente, perché anch'io l'ho fatto all'inizio, ma per fortuna ho superato questo scoglio. Devo dire che quello è uno dei grandi punti negativi a sfavore di questo gioco, cioè il fatto che ha una grafica per niente ispirata e oltre a quello anche i Collider sono gestiti molto male dei personaggi, oltre che alcune delle animazioni sono un po' fatte male. Però ho detto, siamo qui per la Ludonarra con e quindi guardiamo qual è il nucleo, insomma, narrativo di questo gioco. Devo dire che è un gioco di gran valore alla fine, perché riesce a mettere il giocatore all'interno, proprio nei panni di questo protagonista, in modo molto azzeccato. Alla fine la trama non è una trama particolarmente importante, questo ragazzo che sta entrando nell'età adulta, una persona probabilmente circa della mia età, sulla trentina, e si deve staccare un po' dalla sua fanciullezza e dalla sua gioventù, anche da alcuni amici, dalla casa vecchia, da ricordi vecchi, e prendersi le responsabilità e alcune caratteristiche dello stile di vita adulto. Questo viene reso molto bene attraverso dialoghi che ha con personaggi che circondano e popolano la sua vita e attraverso delle situazioni in cui si viene a trovare, situazioni anche queste del tutto ordinarie, in cui può trovarsi appunto a conversare con l'ex ragazza, ha dei problemi con il motorino, quindi chiede aiuto al vicino di casa, va a cena dalla madre, deve finire una prova, insomma, di partecipazione per un libro, per un romanzo. E quindi in tutto questo Frostwood Interactive è riuscita a plasmare un'esperienza che davvero riesce a immedesimarci nel personaggio. E le emozioni sono trasferite proprio profondamente. Anche se la grafica non è particolarmente eccellente, ci sono parecchi punti in cui i dialoghi si interrompono, il gameplay si interrompe e ci sono delle panoramiche con dei movimenti di camera davvero bene studiati e il paesaggio, la situazione e il sottofondo musicale sono perfetti per quello che è l'emozione che in quel momento vuole trasmettere. E funziona davvero in modo estremamente efficace. Non mi sono sentito di recente così colpito da un videogioco. Poi appunto devo dire che io mi trovo anche nella fascia di età che è più influenzabile dalla storia che viene narrata in quel momento. Il gameplay di Forgotten Fields è abbastanza scarno, nel senso che buona parte della durata del gioco, che non è particolarmente lunga, ci troveremo semplicemente a spostarci da un dialogo all'altro, interagire con un personaggio poi con un altro, fare delle piccole operazioni tipo prendi i piatti dalla dispensa, sposta quella lampada, aiutami a cucinare il pollo e sparecchia la tavola. Oppure sistema il motolino. Oltre a quello ci sono alcuni piccoli sprazzi di alcune piccole quest con poche interazioni, però alcune cose un pochettino originali tipo quando capita di dover tirare giù il pallone a dei bambini dall'albero, raccattare dei panni che sono volati via dalla zia. Comunque sono tutte situazioni di ordinaria vita quotidiana. Io concludo quindi questa breve recensione lasciando a voi la palla, lasciando a voi la possibilità di andare a scoprire questo gioco che nonostante abbia dei dialoghi che hanno un sottofondo di tristezza, dà comunque e ha comunque, se sapete leggerlo, lo sprint per andare avanti e non abbandonare la nostalgia del passato, ma accettare che alcune situazioni non sono più presenti, non sono più attuali e andare oltre, insomma, ad affrontare il futuro con grande speranze. Io vi ringrazio per aver seguito questa breve video recensione, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'este già fatto. Ciao a tutti! Grazie a tutti!